Tra pioggia e crisi c'è stato anche chi nei giorni a cavallo di Pasqua ha pensato agli altri. La solidarietà non va in vacanza e anzi, nelle località turistiche come Maratea, la possibilità di raccogliere fondi per una giusta causa si moltiplica con l'arrivo dei turisti. Un piccolo contributo per il bonsai dell'Alaiz che è stato offerto in 3.000 piazze italiane. La Prologo di Maratea ha inteso così aderire alla giornata nazionale di raccolta fondi per dare il suo contributo alla lotta contro uno dei mali del secolo. E' una piaga a cui non si riesce a trovare cura, speriamo che con i piccoli contributi di ognuno si possa arrivare a un grandissimo risultato. Oltre alla solidarietà e all'impegno sociale, la Prologo di Maratea si prepara ad altri importanti appuntamenti di promozione del territorio che la vedranno impegnata nel mese di aprile. Il 28 aprile a Maratea, nel pomeriggio a partire dalle 16, avremo il convegno legato all'enoturismo nel Golfo, se è una prospettiva reale o solo mera utopia, che si terrà all'interno dell'iniziativa denominata Le vie di Dioniso e Bacco nel Golfo di Policastro, e seguirà una mostra a mercato dei vini regionali della Calabria, della Campania e della Basilicata.